Musica Ricostruzione ancora 250 cantieri da completare giovedì l'anniversario del terremoto, 22 anni dopo lavori non ultimati, tutto dovrà essere finito entro la fine del 2025. Musica Debiti fuori bilancio infiammano il Consiglio. A Campobasso stamattina è stato questo il tema che ha tenuto banco a Palazzo San Giorgio. L'ente dovrà pagare 500 mila euro alla regione per un bando legato al mondo della scuola. Musica Presentato il report su mafia e infiltrazioni, il Molise sempre più terra di conquista per la criminalità dalle regioni limitrofe. A Campomarino è illustrato lo studio realizzato dopo un anno di lavoro. Musica Terminal degli autobus tra disservizi e disagi. Il tunnel che collega la struttura al centro di Campobasso presenta diverse criticità per i viaggiatori e le persone disabili. Le segnalazioni dei cittadini su ascensori non funzionanti, poca illuminazione e sporcizia. Campobasso di nuovo in campo mercoledì. Dopo il pareggio casalingo di sabato contro il Sestri Levante, il rosso-blu tra due giorni ad Ascoli per allungare la scia positiva. Basket prima sconfitta per la Magnolia. Musica Buon pomeriggio, ben ritrovati per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. In apertura parliamo del terremoto del 2002. Giovedì sarà il 22esimo anniversario di quella tragedia che portò la morte e distruzione. 22 anni dopo il sisma la ricostruzione in Molise non è ancora ultimata. Ci sono 250 cantieri ancora aperti in diversi comuni e tutto dovrebbe essere completato entro la fine del prossimo anno. Ma facciamo il punto con il servizio di Enzo Luongo. 31 ottobre 2002 e 31 ottobre 2024. Tra tre giorni saranno passati esattamente 22 anni dalla tragedia del terremoto in Molise. Non ci fu solo il dramma di San Giuliano di Puglia, ma danni e devastazione in tutti i comuni di quella zona attorno all'epicentro. Ebbene, 22 anni dopo la ricostruzione post-sisma in Molise non è ancora ultimata. Ad oggi ci sono ancora 250 cantieri aperti su 1.200 interventi autorizzati. A fare il punto della situazione interpellato da Telemolise è il direttore dell'agenzia regionale post-sisma Antonio Lastoria. Complessivamente per la ricostruzione in 22 anni ci sono stati fondi per 330 milioni di euro. Di questi 300 sono stati finora liquidati. Ma cosa resta da concludere? Dei 250 cantieri aperti, 241 riguardano opere private. Ci sono poi 5 scuole, 2 chiese e 2 opere pubbliche a Ripa Bottoni e Toro. I comuni con il maggior numero di interventi da completare sono Bonefro con 32, Colletorto con 27 e Castellino con 23. In questo discorso non rientra San Giuliano di Puglia, dove la ricostruzione è terminata ormai da qualche anno. Il 2025 dovrebbe essere l'anno nel quale tutto dovrebbe essere completato. Nel dicembre dello scorso anno il direttore dell'agenzia Antonio Lastoria firmò una determina con la quale fissava il termine ultimo per la chiusura dei cantieri al prossimo 31 dicembre. Si va ora però verso una proroga, ma tutto dovrà comunque essere completato entro il 31 dicembre del prossimo anno per gli obblighi di rendicontazione delle spese nell'ambito dei fondi FSC. Da segnalare inoltre che negli ultimi anni a rallentare la ricostruzione è stato anche il super bonus edilizio 110 che ha tenuto impegnate le ditte nei lavori di ristrutturazione con le agevolazioni. Infine, quanto alle risorse necessarie rispetto ai problemi del passato, oggi la situazione è molto diversa, così come evidenzia lo stesso Lastoria, diventato direttore dell'agenzia esattamente un anno fa. La Regione Molise spiega che in questo periodo ha sempre garantito le risorse necessarie per le liquidazioni degli stati di avanzamento dei lavori e oggi l'agenzia incassa anche le risorse necessarie per far fronte alle richieste di pagamento che arriveranno. Ed ora andiamo a Palazzo San Giorgio, a Campobasso, è stato il tema dei debiti fuori bilancio, l'argomento che oggi ha tenuto Banco in Consiglio Comunale. L'ente dovrà pagare 500 mila euro circa, la Regione Molise, per un bando legato al mondo della scuola. Una vicenda che arriva da lontano e che ha attraversato più di un'amministrazione scintile tra maggioranza e opposizione. Sentiamo la cronaca da Pasquale Di Bello. È una vicenda vecchia a più di dieci anni, attraversa tre amministrazioni di ogni colore che hanno governato il comune di Campobasso. Quella di centrodestra guidata da Gino Di Bartolomeo, la seconda quella di centrosinistra guidata da Antonio Battista e la terza, quella guidata da Roberto Gravina, un monocolore a 5 stelle. A quella adesso guidata da Maria Luisa Forte, tocca prendere atto di un debito fuori bilancio di circa 500 mila euro da onorare in forza di una sentenza del Tribunale di Campobasso che ne ha decretato l'esecutività. All'epoca dei fatti le somme impegnate riguardavano la messa in sicurezza dei plessi scolastici cittadini, tema all'epoca caldissimo dopo i lutti seguiti al crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia. A tracciare la storia è il capogruppo dei popolari per l'Italia a Palazzo San Giorgio, Salvatore Colagiovanni. Ma è un finanziamento che la Regione all'epoca, negli anni 2013, elegò al Comune di Campobasso di svariate migliaia di euro per la riqualificazione, la certificazione della prevenzione di incendi, certificazione della prevenzione di incendi presso le scuole. Di Bartromea all'epoca diede una serie di incarichi perché il Comune non aveva tutti i tecnici a disposizione. A quel periodo era veramente difficile dare risposta alla cittadinanza perché dopo San Giuliano, come tutti ricorderete e ricordiamo, si vive in momenti difficili. Quel avviare i lavori poi trovò la continuazione durante la giunta a Battista che affidò poi a sua volta all'università uno studio approfondito sulla vulnerabilità dei plessi scolastici. E fatto questo, diciamo che i tempi tecnici per rispondere e avere quel finanziamento a livello regionale sono andati in prescrizione, tant'è vero che la Regione ha richiesto il risarcimento di quegli importi. Succede che l'amministrazione comunale non può più utilizzare quegli importi ma ha effettuato una serie di interventi sulle scuole e quindi si va verso un debito fuori bilancio. Al momento del voto il centrodestra ha lasciato l'aula e il provvedimento è stato votato dalla sola maggioranza. Un atto dovuto, sottolinea la consigliera delegata al bilancio, la 5 Stelle, Giuseppina Panichella. La sentenza c'è stata nel 2018, fine 2018, diciamo che noi ne abbiamo avuto conoscenza dal settore in sede di rendiconto 2023. Il rendiconto viene approvato entro il 28, entro il 30 aprile, quindi a febbraio abbiamo avviato tutte le procedure per il rendiconto e ci è stato comunicato dal settore di riferimento che c'era questo debito fuori bilancio che abbiamo prontamente coperto e quindi poi la procedura è questa, approvando il rendiconto si approva la copertura del debito fuori bilancio e poi il settore di riferimento, in questo caso i lavori pubblici, perché era relativo ai lavori pubblici, deve fare tutta la ristruttoria, la delibera, per riportarlo in consiglio. È un debito fuori bilancio da sentenza, quindi il consiglio può semplicemente approvare questo debito senza andare oltre in modo che non maturino altri interessi. Ecco, che tipo di impegno economico dovete sostenere? È di circa 500 mila euro. E in apertura della seduta odierna del Consiglio Comunale di Campobasso il capogruppo di Forza Italia Domenico Esposito ha voluto elogiare la recente iniziativa messa in campo da Telemolise che ha ampliato la propria offerta informativa ai territori di Puglia e Basilicata. Un'iniziativa lodevole, ha detto Esposito, rispetto alla quale voglio fare un pubblico riconoscimento perché quello che accadrà in Molise e i fatti e le bellezze sarà conosciuto da un bacino di popolazione molto più ampio. Andiamo a Campomarino, a Palazzo Norante. È stato presentato il report sulle mafie e le infiltrazioni malavitose. Un lavoro durato oltre un anno di studi e di ricerca in collaborazione con diverse università. Dalila Catenaro. Presentato a Campomarino, a Palazzo Norante, il report sulle infiltrazioni mafiose attraverso un appuntamento e in collaborazione con l'associazione Cumpanis che riprende il calendario e i cicli di incontri. Un report dell'Osservatorio Antimafia del Molise in collaborazione con Transcrime, l'Università Statale di Milano e la Cattolica di Milano. Molti ricercatori che hanno studiato, analizzato e fatto parte del progetto. A presentare il report, uno dei maggiori esperti della materia, il dottor Vincenzo Musacchio. L'analisi parte dall'esame di settori territoriali, quindi abbiamo analizzato le due province, quella di Campobasso e quella di Isernia, con altre città grandi ma non capologo di province, delle due province. E poi abbiamo analizzato i settori economici, basandoci soprattutto sui dati che abbiamo potuto estrapolare dalla Camera di Commercio. Mettendo insieme questi due dati attraverso dei meccanismi che io non so spiegare perché sono meccanismi di tipo statistico e matematico, siamo riusciti a stabilire i livelli di infiltrazione nell'economia del Molise, nei vari settori che abbiamo esaminato. Sull'agricoltura la mafia ha da sempre lucrato perché si fanno affari due volte. Se solo ci riferissimo al clan dei Casalesi, ci ricorderemo che i Casalesi lucravano sui terreni e quindi sull'agricoltura due volte. La prima volta perché li interravano e la seconda volta quando li acquistavano per prendere i benefici di matrice europea. Quindi per le mafie il settore agricoltura è un settore proficuo sotto il profilo dei profitti economici. E anche nel Molise ci sono state queste problematiche, tanti esempi di agricoltori che hanno ricevuto delle estorsioni. L'associazione nasce con lo scopo di creare, suscitare più che altro un senso critico nella comunità locale e di collaborare con le altre realtà associative del territorio basso molisano e molisano in generale. Siamo preoccupati per quello che riguarda Campomarino perché abbiamo riscontrato da varie situazioni, da vari incontri con gli agricoltori che il fenomeno malavitoso è particolarmente insistente anche qui sulla nostra comunità. Quindi siamo preoccupati e di conseguenza vogliamo agire in qualche modo. Chiaro che la nostra è un'attività di sensibilizzazione, la facciamo insieme ad altre attività che svolgiamo sempre sul piano culturale, ma motivo per cui continuiamo ad insistere e cercare di coinvolgere la comunità tutta. Indaga la polizia per rintracciare i ladri che ieri sera hanno provato a mettere a segno un furto in via Molise a Disernia mentre i proprietari non erano a casa. Stando a quanto ricostruito finora i malviventi sarebbero entrati nell'abitazione mettendola a suo quadro e avrebbero poi trovato una cassaforte che custodiva fucili d'epoca e l'hanno lanciata dal balcone con l'intenzione di tornare a riprenderla in un secondo momento. Individuata poi la cassaforte sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero. Senza distinzione di sigle il mondo sindacale condivide le preoccupazioni per il futuro di Stellantis e la riconversione dello stabilimento di termoli in fabbrica per batterie elettriche. Abbiamo intervistato il segretario regionale dell'UGL Molise Giovanni Silvaroli. È una storia alla quale è legato il destino di migliaia di persone, lavoratori, indotto, famiglie. Stiamo parlando del futuro di Stellantis e segnatamente dello stabilimento molisano di Termoli. Le notizie sulla contrazione del mercato, sui ripensamenti di Stellantis rispetto alla costruzione di una gigafactory e sul venir meno dei fondi assegnati dal governo nazionale agitano il mondo sindacale. Dal segretario regionale della UGL Molise Giovanni Silvaroli arriva una valutazione attenta e consapevole di un contesto difficile da affrontare con la massima unità d'intenti. L'andamento della domanda del mercato è sempre stato altalenante. Adesso viviamo in un momento storico particolare perché c'è questa fase di transizione ecologica al green. L'Unione Europea ha dettato il limite nel 2035 e dobbiamo augurarci che il governo sia attivi per fare sì che quantomeno ci garantiscano la gigafactory, la continuità della produttività dei motori endotermici a Termoli perché vogliamo garantire il lavoro, la piena occupazione nel nostro territorio per i 2.000 dipendenti e per tutto l'indotto perché noi ne risentiremmo qualora non dovesse concretizzarsi e realizzarsi la gigafactory. D'altronde questo problema potrebbe malauratamente, se non si dovesse concretizzare la gigafactory, determinare conseguenze negative anche nel settore chimico, siderurgico e manifatturiero. Quindi il problema diventerebbe ancora più devastante per quanto concerne l'economia nazionale. L'ipotesi malagurata che non ci sia continuità del motore endotermico, che non si realizzi la gigafactory, ci pone un problema di riconversione degli impianti ai fini della continuità lavorativa. È un'ipotesi da tenere in considerazione? L'ipotesi, noi ci auguriamo che questo non accada assolutamente e purtroppo è da considerare anche queste ipotesi, però ci auguriamo che sotto questo aspetto le forze politiche, il datore di lavoro, vengano incontro a quello che è lo scenario che si sta vivendo nella realtà termolese, ma non solo, in tutta Italia. Quindi vogliamo la continuità dei prodotti, dei motori a termoli perché lo merita, anche perché termoli ha prodotto motori per oltre un mezzo secolo e c'è un know-how da difendere. Noi non vogliamo assolutamente che si concretizzi una cosa del genere, Anzi, ci auspichiamo che il tutto si risolva in maniera positiva. Nei prossimi incontri vedremo che cosa accadrà tra Governo, Assisi e Stellantis. Nella classifica delle città con migliori performance ambientali, stilata da Lega Ambiente su 106 capoluoghi di provincia, Campobasso e Isernia non brillano. Il capoluogo regionale si colloca infatti al novantesimo posto, quello pentro all'ottantunesimo. La fotografia scattata da Ecosistema Urbano 2024 mette in evidenza come in Italia le performance ambientali delle città viaggino a velocità e con tempi di applicazione troppo diversi e su cui occorre accelerare il passo. Andiamo ora alla Rino, inaugurazione questa mattina degli alloggi dedicati alle persone con disabilità che potranno vivere autonomemente attraverso progetti personalizzati. Sentiamo. Inaugurazione a Larino degli alloggi destinati ai ragazzi con disabilità. Un progetto inclusivo e meraviglioso che ha visto già qualche giorno fa il taglio del nastro a San Giacomo degli Schiavoni, dove è stata inaugurata una delle due sedi. 12 ragazzi che potranno beneficiare degli alloggi. Il progetto è stato realizzato con i fondi del PNRR. Importante il ruolo della cooperativa Sirio, l'ente scuola lavoro e alcuni enti del terzo settore. Tanto l'entusiasmo e la gioia dei ragazzi che avranno modo di vivere in autonomia e potranno così costruirsi una vita indipendente con l'obiettivo anche dell'inclusione lavorativa. Importantissimo il lavoro degli ambiti territoriali e sociali. Termoli, capofila e Larino, partner del progetto. Una giornata importante perché come amministrazione, ma come ambito di Larino ci teniamo tantissimo perché da qualche mese questa struttura è pronta e sono sicuro che nei prossimi mesi si possa dare attuazione al progetto che ha come obiettivo quello di includere sia a livello di vita quotidiana ma soprattutto di inserimento nel mondo lavorativo persone che hanno delle difficoltà e questo è un progetto importante sicuramente innovativo è stato finanziato con fondi a valere sul PNRR e mi auguro che possa essere un progetto pilota un progetto che possa essere replicato anche in altre comunità. L'ambito di Termoli è ambito capofila di questa linea di intervento del PNRR l'ambito di Larino e l'ente partner. Il comune di Larino ha messo a disposizione un immobile questo qui dietro alle mie spalle è stato un immobile che ha avuto necessità di adeguamenti quindi è stato adeguato a norma messo a norma e anche con delle ristrutturazioni interne. Dopodiché con oggi noi completiamo l'iter siamo partiti venerdì da San Giacomo degli Schiavoni con i gruppi appartamenti del comune di San Giacomo degli Schiavoni oggi terminiamo qui a Larino e c'è grande soddisfazione perché concludere un procedimento del PNRR è sempre cosa buona anche e soprattutto nel Molise vedere portato a compimento questa linea di intervento e dare la possibilità a 12 ragazzi di intraprendere un percorso di autonomia e di vita indipendente quindi non solo di inclusione sociale ma anche di inclusione lavorativa ha visto la soddisfazione di tutti in primisi dei ragazzi. Auguriamo la seconda struttura che siamo riusciti a realizzare attraverso il PNRR nell'ambito della missione 5 che si è posta un obiettivo strategico importantissimo cioè quello di realizzare delle infrastrutture sociali di sistema stabili necessari e indispensabili per attuare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e il servizio che noi eroghiamo attraverso queste strutture si identifica nel dopo di noi nella vita indipendente che a legislazione vigente è uno dei LEPS e questo fa sì che a conclusione del PNRR il servizio potrà continuare ad essere garantito con il canale di finanziamento statale dedicato al dopo di noi e quindi sarà una delle leve finanziarie principali per portarlo avanti. Il tunnel che collega il terminal al centro di Campobasso presenta diverse criticità per i viaggiatori e le persone disabili o con difficoltà motorie i nostri telespettatori ci hanno segnalato che gli ascensori non funzionano e nelle ore serali l'illuminazione in alcuni punti è scarsa o assente siamo andati a verificare Il tunnel che collega il terminal a via Mazzini e via Vico a Campobasso rappresenta una grande comodità per tutti coloro che devono andare a prendere il pullman per altre destinazioni o che tornano in città soprattutto è un'ottima alternativa per gli studenti pendolari non più costretti ad attraversare gli incroci dove spesso il traffico delle auto è intenso nelle ore di punta ma questo tunnel inaugurato nel 2020 a distanza di tempo continua a rappresentare un problema per i viaggiatori perché se è vero che è molto comodo per chi può camminare agevolmente e non ha pesi da portare non lo è affatto per chi ha difficoltà immaginiamo che io sia un viaggiatore devo andare al terminal a prendere il pullman ho la mia bella valigia pesante arrivo da via Mazzini vengo qui e chiamo l'ascensore ma l'ascensore non funziona allora devo portarmi a spalla, a braccia la mia bella valigia per tutte queste scale e devo prendere il tunnel quindi continuando nella nostra simulazione io con le mie belle valigie mi sono fatta due rampe di scale ma immaginiamo che io sia una persona disabile o una persona che ha difficoltà a camminare adesso mi devo fare tutto il tunnel fino al terminal e proviamo con l'ascensore del tunnel che dà su via Vico ovviamente se non funziona l'ascensore per salire non funziona nemmeno l'ascensore per scendere qui dove qualcuno consiglia ai molisani di andarsene a Roma ma non sono solo gli ascensori i problemi che i nostri telespettatori ci hanno ripetutamente segnalato e non si capisce ancora bene se non sono mai entrati in funzione o sono rotti da tempo a questo problema che chi va o torna dal terminal mette sempre al primo posto c'è la sporcizza e la poca illuminazione soprattutto nelle ore serali da quello che ci hanno segnalato spesso le luci verso via Mazzini dove ci sono due rampe di scale sono spesso spente il rischio di cadere è elevato se hai una valigia al seguito infine ma ormai il problema è noto nell'area del terminal c'è anche la piazzola dove a tarda sera si danno appuntamento ai cinghiali il Molise in fondo alla classifica per entrate da multe legate a infrazioni stradali 1 milione e 4 di euro incassati nei primi 10 mesi del 2024 e quasi 5 euro di multe pro capite il dato più basso a livello nazionale seguito da Calabria e Sardegna lo rivela un'indagine condotta da Codacons sulle violazioni del codice della strada in testa della classifica c'è la Lombardia con 324 milioni incassati dalle multe seguita da Lazio e Emilia Romagna cittadinanza italiana per una famiglia ucraina da 20 anni nel nostro paese e la cerimonia si è svolta al comune di Campobasso e c'era per noi Mara Mancini tanta l'emozione per Dimitri e Tatiana che dopo 20 anni a Campobasso ricevono assieme alla loro figlia la cittadinanza italiana una giornata veramente importante indimenticabile per questa coppia arrivata dall'Ucraina un paese oggi in guerra e a cui ogni giorno va il loro pensiero adesso sta proprio guerra adesso sta tutto distrutto là la gente soffre proprio assai ogni giorno non lo so se si sveglia o non si sveglia arrivano bombe in casa si mettono a terra resta solo breccia fuori noi di Ucraina noi a casa parliamo lingua russa per me non c'è differenza di Ucraina e di Russo però con questo periodo che è successo io non lo so a me non arriva in cervello perché è successo questa cosa finalmente è arrivato dopo 20 anni è arrivata cittadinanza italiana più libero diciamo posso andare a tutte le parti non serve cambiare documento ogni volta e loro sono già cittadini di Campobasso perché sono 20 anni che risiedono qui è una famiglia moglie e marito c'è una ragazza ancora minorenne e ci fa molto piacere che ufficialmente siano cittadini italiani oggi hanno fatto il giuramento qui in comune ed è molto importante Dimitri e Tatiana medici in Ucraina arrivati in Italia si sono dovuti adattare a lavori più umili oggi però Milena la loro figlia è nata proprio a Campobasso vuole diventare medico cosa che ci auguriamo possa essere un po' anche la loro rivincita inizio è arrivata 20 anni fa ancora senza lingua italiana un po' vita dura oggi è arrivato il giorno che noi aspettate tutti questi anni preparate i documenti e siamo molto felici tanto dispiaciuto che è successo il nostro paese perché ci sta parecchi i nostri parenti i nostri amici che stanno là già senza casa senza vita noi auguriamo pure a tutti i nostri paesani ucraini prendete cittadinanza italiana state liberi vivete qua in Italia ha fatto tappa anche in Molise il bus a Romi d'Italia l'iniziativa del Ministero del Turismo volta a promuovere le bellezze regionali attraverso un tour enogastronomico nei borghi più caratteristici è la scamorza il sapore simbolo del Molise Valeria Migliore una cucina itinerante che va alla scoperta dei profumi e dei sapori italiani si svolge tutto a bordo di un pullman tra i viaggiatori influencer cuochi e turisti a Romi d'Italia l'iniziativa del Ministero del Turismo volta a far conoscere le bellezze locali e le eccellenze enogastronomiche che raccontano storie valori e identità dei territori anche di quelli meno noti ha fatto tappa in Molise da Venafro a Castel San Vincenzo passando per Scapoli un tour tra i prodotti tipici della regione che promuove il turismo lento i piatti preparati dalla Federazione Italiana Cuochi a bordo dell'autobus esaltano la Roma simbolo di ogni regione per il Molise è l'origano che accompagna la tipica scamorza è un approccio alternativo al turismo gastronomico che attraverso un progetto di marketing olfattivo che va a fare ricerca appunto di un profumo tipico per ogni regione che verrà scoperto oggi una degustazione quello del Molise ma verranno scoperti in realtà quelle di tutte le altre regioni italiane perché li abbiamo radunati in un chito olfattivo che sarà uno strumento prezioso e nuovo per la promozione gastronomica e turistica di tutta l'Italia Aromi, profumi e sapori del Molise è un modo anche per promuovere un turismo alternativo? Assolutamente è così un'esperienza unica noi vogliamo promuovere il turismo esperienziale cioè quello che condivida e valorizzi i nostri luoghi attraverso un'esperienza unica e autentica per questo abbiamo scelto il Comune di Castel San Vincenzo col suo lago turchese incastonato nelle mainarde e Rocchetta al Volturno per una visita alla Abbazia e poi infine la visita al Museo delle Zampogne che è un unicum in Italia vogliamo promuovere questi luoghi e per far questo abbiamo invitato 30 giornalisti influencer che possano portare le bellezze del Molise fuori regione domani ricorreranno i 25 anni dalla scomparsa di Don Giovanni Battista parroco della chiesa di San Leonardo a Campobasso dal 1961 al 1999 la comunità Spirito e Vita celebrerà il ricordo dell'amato sacerdote questa sera alle 19 nella chiesa della Carità di Via Garibaldi dove l'arcivescovo Monsignor Biagio Colaianni celebrerà una messa di suffragio e doppio successo nel weekend al Teatro Comunale di Benevento e nella replica al Savoia di Campobasso per la prima edizione del Beethoven Fest organizzato dal maestro internazionale Michele Campanella dall'Orchestra Sinfonica del Molise al pianoforte si sono esibiti due giovani talenti scelti dal maestro ricevendo grandi applausi Stefano Ricci e cose consumi Territoria anche Una telefonata, un caffè e quindi il successo sulle note di Beethoven. È così che è nata una doppia potente sinergia, quella tra il maestro pianista mondialmente conosciuto Michele Campanella e l'Orchestra Sinfonica del Molise del presidente Pino Emanuele, ma anche quella tra il Teatro Comunale di Benevento e il Savoia di Campobasso, che durante la stagione ospitano tre serie di concerti della prima edizione del Beethoven Fest. Sul palco, per la prima volta al pianoforte solista con l'Orchestra Sinfonica, Luca Faldelli e Alessandro Artese, giovani ma già consolidate realtà. Il Beethoven Fest è nato su richiesta di Pino Emanuele, che è il presidente dell'orchestra. Mi ha chiesto di fare un progetto e il progetto gliel'ho dato, ho pensato io questa cosa ed era una cosa che avevo in testa da parecchi anni e non l'ero mai riuscito a realizzare. Insegnare, tra virgolette, a degli studenti, come tra virgolette si suona Beethoven, tutto tra virgolette, perché suggerire delle soluzioni interpretative di Beethoven e poi portarli a suonare con l'orchestra, con la mia direzione. Cioè praticamente una continuità didattica, sia nella fase del corso, sia nella fase delle interpretazioni, dell'esecuzione pubblica in concerto. E mi sembra che funzioni. Certo, il maestro Campanella è, come voi sapete, di origine napoletana, ma ultimamente un molisano adottato. Quindi era anche giusto da parte dell'orchestra cercare un padre nobile come il maestro Campanella. Resta che Beethoven, come dice sempre il maestro Campanella, è la massima autorità della musica, come per un cattolico se parla il Papa, come per un politico se parla Mattarella. Quindi è il massimo esponente della musica. La particolarità di questo progetto è questo, che mette in scena le opere degli autori più importanti europei dell'Ottocento e alcune delle opere più significative per pianoforte e orchestra. Credo che sia un'occasione unica per far da connubio per queste due realtà che sono, diciamo, il vecchio Molisanio, che è il Molisanio di una volta, insomma. Quindi in qualche modo le due province che si proiettano con iniziative del genere anche a livello della regione Campania e della regione Molise. Quindi è qualcosa che sicuramente va sponsorizzato anche per i prossimi anni. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo allo sport. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.